Accogliere lo spirito con docilità, conoscerlo attraverso la parola di Dio e così vivere. Papa Francesco ha suggerito queste tre strade nell'omelia della messa mattutina offerta per le suori di Casa Santa Marta che celebrano oggi la loro fondatrice Santa Luisa di Marillac. Ricordando la lettera dell'Apostolo Giacomo che consiglia di accogliere la parola con docilità, Papa Francesco è esortato a non essere chiusi né rigidi, ma con il cuore aperto per far entrare le sacre scritture, come un seme che poi germoglierà. È necessario poi conoscere la parola, capirla, averne familiarità, perché questo cambia la persona, la migliora. Così il Papa ha chiesto per tutti la grazia di accogliere con docilità lo spirito. Ma devo ricevere lo spirito che mi porta la parola con docilità. E questa docilità, non fare resistenza allo spirito, mi porterà a questo modo di vivere, a questo modo di agire. Ricevere con docilità la parola, conoscere la parola, chiedere allo spirito la grazia di farla conoscere. E poi dare spazio perché questo seme germoglie e crescano in quegli atteggiamenti di bontà, amitezza, benevolenza, pace, carità, padronanza di sé. E' tutto questo che fa lo stile cristiano.